Nel cuore della nostra Notte degli Assi qui ai giochi del Titano a San Marino incontriamo il Deus Ex Machina della Notte degli Assi Marco Vergani, sicuramente una bella soddisfazione anche portare la Notte degli Assi qui a San Marino, però tu sei abituato a guardare avanti, allora dici quali sono i prossimi appuntamenti di questo format così di successo. Abbiamo subito, fino a ottobre, la Club Edition al Brianza Poker di Lissone, dopo lì che la Notte degli Assi torna con due tappe estere, ancora top secret per il momento, però sono due tappe estere belle e importanti. Quest'estate avevi organizzato una Notte degli Assi a Charm che è un po' un'abitudine ormai, poi purtroppo la situazione geopolitica internazionale ha complicato le cose, però ti sei riproposto di riprovarci? Sì, infatti una delle due era proprio Charm, un segreto non si può tenere. Sì, ci riproviamo e oltretutto ci sarà anche una bella sorpresa per i giocatori, per chi vorrà fare una vacanza con noi, probabilmente gli regaliamo proprio la vacanza. Spiegami, quindi c'è la possibilità, naturalmente non ancora l'ufficialità, che uno pagando il baino del torneo e il volo abbia la vacanza e il soggiorno pagato, così? Esatto, sì, perfettamente. Mi autoinvito già fin da adesso e a parte questo invece l'altra tappa internazionale, hai già qualche idea o questa non si può ancora rivelare? Non possiamo ancora rivelarla, possiamo dire solo che è all'est. Anche qui sono interessanti. Sì, probabilmente in primavera, ma all'est. Tornando invece alla Club Edition, il prossimo appuntamento quindi lo ribadiamo a Lissone, ai primissimi giorni di ottobre, punti a battere il record? Speriamo di fare tanti numeri, di fare tanti giocatori. La Club Edition sta prendendo molto piede. Abbiamo visto Puglia superare i 350 giocatori, è stato un grosso risultato per questa notte di Lissi Club Edition e per Ape stessa che ha fatto dei numeri bellissimi. Qual è il segreto secondo te? La giocabilità del torneo, il buy-in comunque contenuto a fronte di un montepremio importante? Direi proprio la combine buy-in di non grosso livello e una struttura che ti permette di giocare per tre giorni tranquillamente, molto tranquillamente. Allora in bocca al lupo con le prossime note degli assi. Grazie.